I bambini si stanno divertendo a prendere gli insetti, tirano su le secchiate, fammi vedere, fammi vedere a me, fammi vedere a me, fammi vedere, in acqua li stanno girando fuori, lì sono i vermi, quali sono questi? Avete visto i vermi? Sono qua, se va a camminire li vedi pieno, quindi vieni amore, tu li hai visti i vermi? Adesso li vedi, quindi qua siamo al mare, a Fano, oggi è il 30, domenica, c'era un bambino che si divertiva, Alla posta di prendere i pesciolini, sta prendendo, sta tirando su gli scarafaggi dall'acqua, io avrei preferito che tirassi su, avrei preferito su, ti avrebbe tirato su anche pesce, a sto punto mi viene da sospettare che qua discarichi qualcosa di brutto, adesso li vedi eh, adesso li vediamo, poco poco più avanti li iniziamo a vedere Ecco, guarda, guarda, eccolo qua, vedi? Lo vedi? Lo vedi? Ma una larva di cosa? È pieno qua di larve, e quindi adesso vi faccio vedere, il bambino mette che è una larva, come ne sa più lui che io Quindi andiamo avanti, ora ve le faccio vedere un po' perché ne era solo una, una non ve la faccio vedere, vi faccio vedere un gruppo, se no non è così terrorizzante, ecco Guarda, 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 giro Non so se si vede Questa cosa sia, guarda qua Qui siamo a due passi a gente al mare Quindi stiamo vedendo che a Fano stiamo tirando su pure queste zozzerie Allito mi hanno detto Lido 3 mi hanno detto che Lido 3 si chiama comunque detto questo fate attenzione non lo so se c'è da fare attenzione o no comunque sicuramente a breve me ne vado via da qua molto meglio il mare di Roma a sto punto sicuramente si sta meglio a Roma non ho mai visto niente del genere avrei preferito vedere uno squalo onestamente passare che un verme non che mi facessero schifo però favolo è pieno anche qua in acqua pieno di scarafaggi pieno di scarafaggi in acqua anche vabbè credo che con questo vi saluto Firas Armand il mio Instagram divertitevi anche voi condividete i vostri video delle spiagge quelle che purtroppo hai visto anche la larva? vi fate fare i combattimenti larve controvermi? dov'è hai visto? facciamo un zoo facciamo un zoo ciao ciao ciao